Buongiorno ragazzi, buon mercoledì a tutti quanti voi, bentornati, video chiarimento sulla famosa carta che la Juventus ha ottenuto. Tanti ho visto che c'è un po' di confusione, spaziamo via l'ignoranza, bisogna avere massima consapevolezza di quel che è accaduto ieri, massima precauzione, ma non brindate prima del tempo, vi do un consiglio. Cauti, un pelo ottimisti, un pelo in più ottimisti, ci sta, ma con cautela, mi raccomando. Prima di iniziare ovviamente vi dico una cosa, sostenetemi, sostenete il canale che sarà una lunga battaglia da raccontare, quindi cercherò di raccontarvela al limite delle mie possibilità, ma anche portando professionalità importanti su questo canale. Ho portato il professor Bava, ho portato Dorini, ho portato grandi professionisti che sono in grado di spiegarvi delle cose in maniera molto semplice, quindi aspettiamo il corso degli eventi. Ho portato anche Francesco Andrianopoli che è stato eccellente anche lui, quindi mi raccomando ragazzi che c'è tanto materiale su questa questione per schiarirvi tanto le idee. Massimo sostegno e iscrivetevi. Io ragazzi ieri sera me la sono passata a leggere, a leggere cose in legalese, pesante, cioè è roba pesante, non è una roba facile. Però ho trovato una pagina Facebook, la solita, la classica pagina Facebook che fa un resoconto pressoché perfetto, perché poi io ci ho impiegato tanto, ma non per la comprensione, perché Cristian scrive anche in un linguaggio molto semplice. Cristian Belli, 100% Juventus, seguitela con la pagina, perché per questioni dell'inchiesta Prisma, giustizia sportiva, sempre legata al filone Plus Valenze e al filone legato agli stipendi eccetera. Super lega, super lega, è ferratissimo, cioè è veramente chirurgico, è bravissimo nel spiegare queste cose e anche i riferimenti che fa, gli approfondimenti che fa, cioè io sono andato a riscontrarli. Eh ragazzi, è il più esaustivo, è anche quello che scrive con un linguaggio più comprensibile. Oggi ho letto un articolo che ci voleva un pool di avvocati per cercare di spiegarmelo in maniera semplice, quindi cercherò di essere semplice, semplice, semplice. E cercherò di essere ancora più riassuntivo rispetto a ciò che ha scritto Cristian e cercherò di spiegarevi un po' come sono andate le cose in retroscena. Perché ripeto, questo ricorso che la Juventus ha fatto è passato in sordina, nessun media si è accorto di questa cosa. Cioè non è che tutto sport, Corriere dello Sport, Gazzetta hanno riportato la notizia alla Juventus, ha ricorso al Tar, però zero, nessuno sapeva nulla, nulla. Si sapeva dell'intenzione della Juventus che voleva fortemente questa carta perché è ritenuta fondamentale per la propria difesa, perché se quella carta contiene effettivamente quel che pensano gli avvocati, il rischio di invalidare il processo c'è e come. Ma questa cosa già da prima della sentenza dei 15 punti, attenzione, cioè non è che la Juve si è svegliata dopo i 15 punti di penalizzazione. La Juve ha chiesto da prima la difesa della Juve, il pool che sta difendendo la Juventus di avvocati, ha chiesto da prima questa carta. E questa carta ragazzi, Procura Federale, la Covisoc, sempre no secco, con giustificazioni anche un po' fumose, poco chiare. No, 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 quella carta è irrilevante, lasciate perdere, andate oltre, non cercatela. Uno poi si sospettisce anche perché guardando la data, guardando alcune informazioni, eccetera, insomma gli avvocati è puzzato un po' di bruciato. E allora sapete che hanno detto gli avvocati? Ah sì, no, 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 no. Bene, io preparo intanto il ricorso al collegio di garanzia del CONI, aggiungo più e più volte, faccio riferimento a quella carta che io non ho mai potuto vedere e che probabilmente avrebbe potuto invalidare il processo. Nel frattempo piazzo un ricorso al TAR per avere l'accesso a quel documento. E così la Juventus ha fatto e poi ha vinto questo ricorso. Quindi la Juventus avrà quell'atto. E se effettivamente poi il contenuto di quell'atto dirà che c'erano gli estremi per iniziare già le indagini il 14 aprile del 2021, tutto il processo verrà invalidato. Tanti poi si chiedono, ma come mai questo no, no, no? Cosa avevano da nascondere? Se era così irrilevante, perché non gliel'ha andata? Tanto era una carta irrilevante. Ragazzi, non vi so rispondere a questa cosa. Sarà il tempo e il processo stesso. a definire il perché la procura ha detto no, no. Può essere stata anche una strategia bastarda. Cioè nel senso, sai che c'è, quest'atto non conta veramente nulla e convinco la difesa che questo atto possa contenere determinate situazioni per loro forti, magari delle motivazioni forti per poter ribaltare la situazione e li sposto a sforzare su un aspetto che è rilevante. Io ragazzi vedendo Suz, che è una serie televisiva magnifica di avvocati, di giochetti simili ce ne sono a Iosa, a Iosa. Per cui io vi dico, attenzione, cautela. C'è da dire che probabilmente vedendo anche il processo legato al ex capo Aie, eccetera, 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 per come si è svolto quella cosa, forse sopravvaluto un po' la procura federale in una strategia simile. Però mai dire mai, mai sottovalutare gli avversari. Fatto sta che la Juventus va a ricorrere al Tar e al Tar ricorrono tutte le squadre sportive che in generale non si accontentano della giustizia sportiva o credono di essere stati giudicati negativamente e pensano che magari ci sono le possibilità di poter ribaltare la situazione. Si va al Tar, il Tar non ribalta mai quello che è il giudizio sportivo, non va mai a entrare nel merito di una penalizzazione. Tuttavia, la squadra che ha subito un torto dalla giustizia sportiva può ricevere soldoni e soldoni, fior di soldoni. Questa è la situazione. E occhio perché poi la FIGC sul finale è una cosa da dire importante sulla FIGC e quindi si ricorre al Tar per questo motivo. Già da prima, ripeto, della sentenza della Corte federale d'appello la Juventus aveva richiesto accesso a quest'atto. Già da prima di quei meno 15 perché altrimenti ora sembra che sia troppo bello, sembra che sia quasi una trovata post 15 punti di penalizzazione, una mossa quasi disperata. In realtà no, era una mossa ponderata da prima di quella cosa là. Ed è importante questo e va sottolineato. Allora, la Juve ricorre quindi al Tar secondo l'articolo 60 del codice del processo amministrativo e quindi chiede anche delle misure cautelari con quest'articolo 60. I legali della Juve hanno richiesto, ragazzi, l'accesso all'atto, a questo documento dopo che hanno decifrato alcune informazioni e date clamorose. La data in particolare è il 14 aprile 2021. E quindi hanno sentito un po' di puzza di bruciato perché effettivamente per come poi si è svolto il processo la procura federale è andata fuori tempo massimo se ipotizziamo che quella poteva essere la data di inizio indagine. E questo, ragazzi, porterebbe all'invalidare completamente tutto il processo. Tanti di voi mi diranno Ehi, ma è un cavillo. No, non è un cavillo. Un vizio di forma è bello e buono. E guardate bene che su processi seri i vizi di forma non sono ammessi. Sono una violazione nei confronti anche di chi si deve difendere i vizi di forma. Oltretutto, credo che il negare l'accesso a un atto vada contro quello che è il principio di difesa di un processo. Perché se poi quest'atto risulta veramente determinante ai fini del ribaltone Ebbè, ragazzi, poi chi ne deve rispondere? Chi ne deve rispondere? Cazzata Chi ne risponderà? Chi? Ma state scherzando? Cosa c'è voi? La state prendendo sotto gamba? Ma questo è un processo sportivo legato a una squadra di calcio e per tanti nonostante non sia una roba futile perché il calcio muove denaro c'è tanta gente che ci lavora attorno però immaginiamolo su una roba seria in un processo di giustizia ordinaria è una roba simile cioè la procura di un tribunale non dà accesso ad un atto ad una difesa cioè quel processo ragazzi lo invalidano immediatamente ma senza passare dal via e non finisce qua però Legale di Juve quindi ricorrono Altar Articolo 116 Articolo 116 è diviso in 5 punti ragazzi possiamo dire che è diviso in 5 punti Contro la determinazione e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla conoscenza delle determinazioni impugnata o dalla formazione del silenzio mediante notificazione all'amministrazione ed almeno un controinteressato si applica l'articolo 49 il termine per la proposizione di ricorso incidentale o motivi aggiunti di 30 giorni in pendenza di un giudizio in cui la richiesta di accesso è connessa il ricorso in cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui assegnato il ricorso principale previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati l'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale ovvero con la sentenza che definisce il giudizio l'amministrazione può essere rappresentata a difesa di un proprio dipendente e a ciò autorizzato il giudice decide con sentenza in forma semplificata sussistendono i presupposti ordina l'esibizione e ove previsto la pubblicazione dei documenti richiesti entro un termine non superiore di norma 30 giorni dettando ove occorra le relative modalità le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche i giudizi di impugnazione quindi questo è l'articolo che la Juventus ha fatto ricorso sfruttando questo articolo 116 che cosa è successo? che ha vinto il ricorso e quindi adesso la Juventus deve avere accesso a quest'atto e questo è quello che è successo essenzialmente la Juventus ha sentito dire no 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 la Juventus si è rotta il cazzo e ricorso al TAR ovviamente tutta la parte legata al dibattimento è stata eseguita in teleconferenza non è stato possibile assistere ad un dibattimento vero fatto nelle aule eccetera è stato tutto molto rapido e la sentenza del TAR quindi va a desecretare questo atto ora ragazzi non vi illudo io ci credo che questo atto possa essere un atto interessante e fondamentale ai fini anche dell'annullamento speriamo bene speriamo bene perché sarebbe veramente un qualcosa di clamoroso uno smacco enorme a chi ne è alla giustizia sportiva l'altra novità importante e interessante è che la FIGC non presenzierà credo come controparte alla corte di garanzia del collegio del CUNI per quanto riguarda il ricorso che la Juventus ha fatto e non so come indicarvela sta cosa se è un atto della FIGC o se è un prendere posizione in base a tutta questa situazione non lo so tanti di voi mi chiederanno adesso ma quindi se questa roba contiene questa cosa la Juventus ribalta può andare al TAR a chiedere dei danni sì ma credo che la Juventus non farà così anzi cercherà di mediare per la questione di stipendi utilizzando magari eventualmente questa situazione ha proprio vantaggio questo potrebbe essere uno scenario è un compromesso diciamo più politico quasi no? non credo che la Juve andrà a ricorrere contro la FIGC pur avendone magari diritto e anche buone possibilità di buona riuscita eventualmente le cose vadano sul piano giusto detto ciò ragazzi questa non è l'unica situazione che la Juventus ha deciso di scrivere ovviamente nelle motivazioni del ricorso sono tante le motivazioni che spingono la Juventus a ricorrere contro questa questa insomma contro questa sentenza assurda della corte federale d'appello però un altro dettaglio molto molto simpatico il Tar va a bacchettare la FIGC Covisoc e anche Torsiello che è il giudice che ha detto ah ma non è stata la giustizia sportiva siamo indipendenti facciamo le cose con le regole nostre e tante altre mille cose che ha detto e il Tar dice una cosa attenzione noi non entriamo nel merito della giustizia sportiva vera e propria per quanto riguarda la regolarità del campionato tenere la paracondizia tra le squadre eccetera eccetera noi non entriamo in quella roba là però vi dovete ricordare che siete all'interno di un ecosistema dove ci sono delle fonti di diritto molto più ampie e quelle là vanno rispettate perché negare l'accesso agli atti è una cosa che non va bene cioè va a bacchettare FGC Procura FGC e Covisoc in questo caso il Tar e quindi ragazzi capite bene che insomma il Tar ci è andato giù pesante non è che ha desecretato un atto e basta ha bacchettato addirittura Tar e FGC cioè Tar scusate la Procura Federale e ovviamente la Covisoc e questa cosa insomma è un segnale importante detto ciò calmi perché neanche il Tar sa effettivamente che cosa c'è all'interno di questo documento si parla solamente dell'accesso agli atti quindi attenzione stiamo molto calmi aspettiamo con fiducia una considerazione però ve la faccio c'è o una consapevolezza maggiore o una consapevolezza maggiore del fatto che gli avvocati della Juve sanno fare molto bene il proprio lavoro e lo hanno dimostrato anche in questa situazione e niente signori questo è tutto poi c'è gente che ci ha costruito anche altre ricostruzioni se proprio vogliamo nella chat per esempio di Antonio Corso ha detto delle cose che possono essere plausibili quindi della serie beh chi ne è poteva fare una cosa poteva vedere quegli atti magari dopo lo scambio con la Covisoc apriva un'indagine la archiviava ne riapriva un'altra quando uscivano comunque le nuove situazioni e non incorpava tutto perché le tempistiche difficilmente riescono a farti avere tutto quel materiale probatorio dal 14 di aprile in poi se tu inizi l'indagine è difficile che poi puoi avere e includere altri atti perché comunque si deve concludere l'indagine il materiale eccetera e si deve arrivare a un giudizio una volta che hai accesso ai nuovi giudizi perché poi le tempistiche c'erano bastava archiviare il primo caso e riaprivi il secondo caso con i nuovi elementi eccetera eccetera ripartivi dal primo grado di giudizio con la Juventus eccetera eccetera non lo so io ragazzi vi riporto quello che ho letto ad oggi la situazione è questa vediamo che cosa dirà il collegio di garanzia del CONI sono veramente curioso e occhio perché a breve poi potrebbero arrivare le notizie dei riferimenti legate invece all'inchiesta stipendi salvo la Juventus non decida di agire con la procura in che modo con un patteggiamento su questa vicenda e se questo patteggiamento arriverà prima del deferimento probabilmente lo sconto di pena sarà elevatissimo se invece si arriva al deferimento e poi al patteggiamento successivo post deferimento il rischio è di avere una sanzione un po' più alta quindi se la Juve pensa di essere un po' in errore magari anche fatto in buona fede perché non è che ci deve essere per forza la cattiveria dietro la Juventus potrebbe scegliere di patteggiare prima del deferimento quindi vedremo un po' che cosa succederà ragazzi detto ciò io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona mattinata e ci vediamo sicuramente più tardi c'è anche la conferenza di Max pre Juventus Friburgo l'andata di Europa League vi mando un forte abbraccio e sempre fino alla fine forza Juve ciao belli